Allora, questa coppa è stata donata da Franco Miditto alla miglior poesia e per voi, dov'è la bambina? E' più 30 euro, è personale a lei, della bambina, ecco qua 180, vai Allora, sono 150, più 30 la bambina, 180, ecco qua Il Presidente dove? Ecco qua, voi Prego Voglio dire, se volete lasciare un regalo a questa unica commissione che vi ha portato, se vi fa piacere Grazie mille, grazie Ci tenevo a precisare, la coppa l'ho regalata io personalmente Complimenti per la recita della bambina e anche chi ha scritto questa magnifica supplica a Maria Santissima dell'Arco Lascio il microfono a mia figlia che è più brava di me adesso Grazie mille Soprattutto vi voglio dare di nuovo un augurio di Pasqua e augurandosi ancora di 100 anni di questa vita Grazie mille, grazie mille Ci sono onorati a questo paese e spero di venirci ancora per 100 anni Allora, volevo dire inoltre che le 13 coppie sono state donate dalla famiglia Belfiore Grazie mille A la bambina A la bambina A la bambina A la bambina Grazie mille e alla prossima, buon procedimento!